la grafica di via 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 ma antonio c6 è una finta è una finta porco due non mi carica ora mi ha caricato e mi ha detto errore ma dovrebbe avviare modem oggi non devi giocare nata dovrebbe raggiare in modo ignorare sospetti ma minato si adesso un'altra volta abbiamo il team da 4 era poi alla fine adesso no nel coso di panini al coso di panini io ora sono sono un altro team operato intera 4 petto mette mi è veloce che c'è la pistola ma non c'è la carina grazie anche se mi dovrei curare io sono anche se mi dovrei curare io appena trovi delle vende appena trovi delle vende mi è finita remuni io sento la cassa che mi fa tanto finendo c'è una cassa qua porco due come cazzo va bene ma ci si arriva facendo il parco da sparare vabbè parkour io ci vado io parkour master essere è che ti dico io ho trovato un'altra cosa un altro scudo mi è trovato scusa la m16 normale o legno ma andiamo vediamo che c'è gente che spazi sta sparando dai che io sono un fucile a poppa è una mitra dai solamente due munizioni della pistola ma aspetti sto usando lo scudo aspetti aspetti vabbè 16 cosa ha trovato come si dicevamo vieni vieni come vedi come c'è ricordiamo di odio dio quanta roba che c'è quel tizio vieni 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 veloce 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 che ce lo facciamo ora è qualcosa che ha l'ho ucciso facciamo tutta una cosa bella mio mio ciocchino io voglio solo diamo vi è piatto anche te la lancia puffi aspettami qua ci sono delle bende mi servono a posto ok c'avevi il compagno per cui occhia dove dove potrebbe essere in casa non c'è ti sto finendo mamma ares aiuto morendo aiutami vabbè adesso arrivo 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 tranquilli mi che ti stanno sparando la balanza puffi primi hanno sparte come ne ho piaciuto un po di scudo ovviamente lo avevo pieno lo scudo che bello che ho già fatto la sfida della smg che mi stava sul cazzo con la sfida palle che la smg fa a cagare come allora andiamo finendo papà manca poco mince poco abbiamo appena iniziato si 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 poco poco aiuto signore non è vero sta mentendo difendimi che ho il ceccino io al ceccino difendimi cosa sto finendo mi fai finire grazie andiamo andiamo dentro la fabbrica ho trovato il g3 di ash guardami aree sono di 3d ass ha trovato girato me lo devo andare anche a da g3 ho visto visto di sicuro qua master of cecchini sono io voglio controllare lo stesso aspetta poi migliorare col mito allora ho il pompa aspetta che invito del mantone aspetta aspetta il palco finendo attento si è aperta la porta aspetta mannaggia la miseria non mi lagga più come prima finendo ma hai sparato a te prima no oh porco dam'antonio ma che volevo dire francesco che cazzo mi spari mi ha cavato tutta l'armatura si ma ha cavato tutta l'armatura mi spara pure lei ma che ti spara pure a te non so se ti ha inteso che ti bannano se spari i compagni eh lo so se continuo a farli il gioco poi legge quanti danni hai fatto agli alleati e poi ti bannano se c'è la vostra partita la ci sono due tizio spara a loro no è andato sono due a terra manca uno di loro allora dammi la mia ok in tutta gli atti condizioni bende amore cecchiera occhio aspetta ci stanno spandando corri che ci stanno sparando stavo prendendo le bende no e ti ammazzano è per questo sono tizia che cazzo sta fai nello sto coglio assist ma prendi tu imprendi il tuo dai allora c'è la gente là sopra venga vediamo se li veda ma se io facessi una roba del genere porco due levati eh eh metà scudo ricassato minchia non sono la ho quasi finito stai sparando ti stanno sparando o stai sparando quelle bende quelle bende quelle bende veloce che ne ho dall'iardrop non capisco se l'argo è sopra la montagna oppure no vabbè per non saperne leggere e scrivere facciamo così non ci suol dire so leggere che mi dice la gente non si scrive no è un modo di dire allora qua ce l'ha dopo vai questa è una buona zona aiuto cosa hai fatto mi hanno sparato e mi hanno fatto cadere riesce a costruirla velocemente vabbè è già questo no ci sono già le due tranquillo corre che qua sento anche gente a sparare mi hanno sparato talmente forte che mi hanno buttato giù no mi sparano sempre mi fanno salire no levantano grazie devo andare ciao è diventato un 1 di 4 questo è emozionante un video 1 di 4 mi sento emozionato l'hanno appena stuprato analmente a francesco non l'hanno lasciato porca troia sono in tre ti prego non mi venite a prendere oddio 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 ma perché dico io allora un'idea un'idea ok li aspetto vai venite pezzi di fango venite vedete che state salendo qua no non stanno salendo eccoli qua merda porca troia che situazione di merda ma tu perché non puoi giocare nei giorni settimanali? perché sono a scuola io faccio 6 ore un giorno 8 per cui non ho molto tempo mi stanno a sparare ah tu hai fino a quante ore sei a scuola? io entro le 8 ed esco alle 2 però qui devo prendere l'autobus per cui torno a casa verso le 3 finisco di mangiare che sono già le 4 e poi devo studiare quindi devo studiare ah ho capito dai porco 2 mannaggia sti cazzo di cecchini che c'hanno alla mira di padre più sceso in terra porco 2 cazzo di palle eh vado parte anche a scattarti ah è un'andata ah questo è che ho segnalato il video per sbaglio me lo stavo vedendo ma te la levo ma te la levo ecco cazzo ce l'ho scuso anche attaccato ce l'ho scuso anche attaccato al culo oh ragazzi se vinco una partita eh uno contro il team da 4 eh voglio 100 like per forza guai però quello video di ieri Mario gioca a nascondino su forza no height ah 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 dietro alla alla siena si era affossato si era affossato oh 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 ah mazzami sparato brutti stronzi sparato brutti stronzi ah questi sono quelli sono dentro al cazzo di scudo non vogliono quei coglioni guarda corri 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 i mosti scemi muoiono da solo i mosti scemi muoiono ma porco 2 trapasso lo scudo e mo li aspetto vai va ragazzi siamo in 24 ho 5 kill e se vinco porco 2 veramente eh voglio una medaglia cazzo all'onore proprio dai 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 ma danagi non c'è danagi viene dopo adesso ok 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 ma stai online fino all'una e mezza no io adesso stacco io adesso devo andare a mangiare oh mannaggia io adesso devo staccare perché devo andare a mangiare è una balla per l'altra che io mi devo fare da mangiare da solo eh ma non vieni dopo eh dopo dopo vado su rainbow con loro porco non ci credo erano camperati due nella casa no che schifo no porco 2 mi li stavo anche a scopare no che merda no vabbè non posso camperare così porco 2 va bo va